Anche se vuoi tutto a mani... Da bambino le uniche vacanze erano in campeggio, si tirava avanti come si poteva il padre artigiano che perde il lavoro e diventa magazziniere, la madre anche si ritrova disoccupata. Con i soldi della liquidazione comprano un bar, poi viene venduto. Federico Leonardo Lucia, prima di diventare Fedez, era un ragazzino con un futuro che sembrava segnato, nato da una famiglia di classe subalterna e operaia. A scuola le cose non andavano benissimo, poi però l'amore per il rap, lui tenta la strada, funziona. I primi soldi Fedez li utilizza per pagare i debiti familiari, soldi che li evitano, arriva il successo, inaspettato. E con il successo, come spesso accade, assieme a milioni di fan, arrivano però anche gli odiatori, l'invidia sociale, diventa rabbia feroce. Rabbia che non si ferma neanche di fronte alla malattia. Nel 2022 Fedez scopre un raro tumore al pancreas, si sottopone a un'operazione urgente, inizia a soffrire di depressione. Arrivano i messaggi di solidarietà dai fan, ma si mette in moto anche la macchina dell'odio di nuovo, fino ad augurargli la morte. Cosa che è accaduta anche in questi ultimi giorni, quando Fedez ha rischiato la vita per due gravissime emorragie. Oggi, in un'intervista al Corriere, racconta di quanto sia grave la sua sofferenza psicologica. Ho provato di tutto, dice, perfino le scosse elettromagnetiche al cervello. E poi l'amarezza per quei messaggi di odio mi ha rattristato scoprirmi dentro il gioco del fantamorto, una specie di fantacalcio con i morti. Questo mi ha fatto male. Alla fine, dice, in certe situazioni non conta l'estrazione sociale, non conta dei privilegi. Siamo tutti delle persone.